Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Dammi una di quelle armature da pervertiti Tu non dovrai indossarla Eh? Già fa parte del piano Tu ti arrendi a noi Ti portiamo al cospetto del barone Ah già E poi? Al mio segnale i tuoi uomini attaccano Bene Va a travestirti L'alba è vicina Mettetevi in formazione BAM BAM Grazie a tutti. Grazie a tutti. O gli uomini del duca mangeranno la foglia. Il barone crede che Cesare permetterà ai francesi di governare l'Italia. È talmente accecato dal suo sangue reale. E non riesce a vedere il campo di battaglia. Qualunque cosa crede il francese, Cesare vuole diventare re. Quali spazio sono più che non si chiede a terra, non dopo. Oltre truppe più avanti. Il piano è geniale. Ma non mi piace usare questi dubbi. Io credo nelle battaglie leate, in cui vince il migliore. Cesare e il barone adottano uno stile differente. Verrà il giorno in cui gli uomini non si inganneranno a bicella. Il giorno scopriremo di che cos'è davvero capace di cedere umano. Ho già udito questa frase. Queste parole le ha scritte tuo padre. Me ne occupo io. Siete fiori di indossare quei colori? Vergognatevi! Siete fiori di indossare quei colori? Storvale, prima che ci attacchino. Dio mio, salvami! Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut s'en rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Parli francese? A Firenze conoscevo un paio di ragazze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-le ! Il a honte de ce qu'il est ! General D'Alviannou, alla fine anche voi avete visto la luce. Poche fesserie! Libera mia moglie! Quanta spavalderia da un uomo nato senza alcun diritto! Almeno io sono onesto! Invece, il tuo titolo è falso! Come vi permettete? Pensi che comandare un esercito ti faccia diventare nobile? La nobiltà è combattere al fianco dei tuoi uomini! Non rapire una donna per vincere una battaglia! Dimostra che sei un uomo! E libera mia moglie! Voi selvaggi non imparate mai! Ehi, fermo! Mi seguitelo, ragazzi! Ezio! Devi salvare mia moglie! Sali sui tetti! Sali sui tetti! jerò Grazie a tutti.